CUM DICSI FICUS RIDES QUASI BARBARA VERBA ET DICI FICOS CECILIANE IUBES DICEMUS FICUS QUAS SCIMUS IN ARBORE NASCI DICEMUS FICOS CECILIANE TUOS Bentornati sul mio canale. Quest'oggi torniamo ad occuparci di un certo ceciliano. Ci è già capitato in passato in un altro video di parlare di lui perché è uno dei bersagli preferiti del grande poeta latino marziale. Vediamo quest'oggi per quale motivo, traducendo dal latino in italiano l'epigramma 65 del primo libro degli epigrammi di Marco Valerio Marziale. Partiamo dal primo dei due distici elegiaci. Lo rileggiamo. CUM DICSI FICUS RIDES QUASI BARBARA VERBA ET DICI FICOS CECILIANE IUBES CUM DICSI FICUS. QUANDO IO MARZIALE HO DETTO LA PAROLA FICUS RIDES CECILIANE QUASI BARBARA VERBA TU O CECILIANO RIDI, HAI SORRISO, QUASI BARBARA VERBA, COME SE AVESSI DETTO DELLE PAROLLE BARBARICHE, STRANIERE, STRANISSIME. ETIUBES DICI FICOS, ED ORDINI DI DIRE FICOS. Vediamo la seconda metà della poesia, il secondo distico elegiaco. DICEMUS FICUS QUAS SCIMUS IN ARBORE NASCI, DICEMUS FICOS CECILIANE TUOS. Dunque dice marziale DICEMUS FICUS, diremo, chiameremo FICUS, QUAS SCIMUS NASCI IN ARBORE, quelli di cui sappiamo che nascono sugli alberi, cioè i fichi, i frutti. Invece, CECILIANE, o CECILIANO, DICEMUS FICOS TUOS. Diremo, chiameremo FICOS, i tuoi. A prima vista l'epigramma non fa ridere. Perché? Perché dobbiamo sapere che in realtà tutto è giocato su un gioco di parole latino, cioè sul sostantivo latino FICUS, che ha una particolarità. E' un sostantivo eteroclito, cioè un nome che può essere declinato in due modi diversi, secondo due diverse declinazioni, la seconda e la quarta. Se rispettiamo le desinenze della quarta declinazione, se collochiamo in questa declinazione il termine FICUS, significa i fichi, come ad esempio a riga 3. Se invece collochiamo questo sostantivo nella seconda declinazione, come avviene nel verso 4, cambia il significato, perché indica un'altra cosa. Indica, ahimè, le emorroidi. Dunque qualcosa di molto imbarazzante anche per il povero CICILIANO, chiamato in causa per questo motivo al verso 4. Ecco dunque il senso comico di questo epigramma di Marziale. Grazie a tutti per l'attenzione, se l'epigramma vi è piaciuto lasciate un like, e prima di andare via, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Alla prossima!